Fratelli d'Italia rompe gli indugi e indica la coalizione di centrodestra al suo candidato sindaco di Avellino, Modestino Iandoli, già consigliere comunale dirigente, che è arrivato in Fratelli d'Italia dopo un lungo coerente percorso cominciato nel movimento sociale e successivamente in alleanza nazionale di Gianfranco Fini. L'annuncio è stato dato nel pomeriggio dalla presidente provinciale Ines Fruncillo, che prendendo atto dello stallo delle trattative provinciali ha lanciato in pista Iandoli, pur auspicando, scrive Fruncillo, un costruttivo confronto sul tavolo nazionale della coalizione, Fratelli d'Italia assume su di sé la responsabilità che deriva dal ruolo di primo partito della coalizione. L'annuncio è anche la risposta all'aperta contestazione nei suoi confronti da parte del segretario del circolo cittadino, Vincenzo Quintarelli, e del responsabile organizzativo, Edoardo Fiore, che hanno bocciato la linea solitaria della presidente provinciale, definita improvvida e letale, e chiesto al commissario regionale del partito, Antonio Iannone, di intervenire.